Siamo nel pieno della settimana della prevenzione oncologica. Il momento giusto per parlarne lo facciamo con il presidente della Lilt di Milano, Marco Aloisio. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Allora, professore, cosa succede in questa settimana? Norma e statuto della Lega Tumori prevenire e promuovere manifestazioni di prevenzione dei tumori. Questa è la quattordicesima edizione, per cui parte da molto lontano. Ed è una promozione degli stili di vita. È noto che con una buona prevenzione, con un buono stile di vita, possiamo prevenire il 30-35% dei tumori. Cosa farete sul territorio? Sul territorio la Lega Tumori in tutti questi anni è stata sempre molto presente con degli ambulatori per visite di prevenzione. Avremo un'unità mobile, come tutti gli anni, che si muove non solo a Milano, ma anche sul territorio, per la prevenzione, visite cutanee, visite senologiche e anche cavo orale. Ovviamente, considerazione superflua, si tratta di controlli gratuiti. Ci dà qualche dato per capire di che cosa stiamo parlando? Il dato è un dato incoraggiante, perché l'incidenza dei tumori nel mondo occidentale, in Italia e in particolare in Lombardia, è un poco in aumento. Ma anche perché questo aumento è fittizio, perché è dovuto a una prevenzione, a prevedere la diagnosi precoce. E comunque la mortalità è in diminuzione in tutti i tumori, tranne che purtroppo, e lo devo dire, per i tumori del polmone nelle donne, che questo è un dato purtroppo in aumento. Professore, il tema dell'Expo tra un mese si parte e nutrire il pianeta. Lei parlava di stili di vita, di prevenzione. Nella lotta ai tumori, naturalmente, il cibo gioca un ruolo fondamentale. Il ruolo è assolutamente fondamentale, ormai questo l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità già dagli anni 60. Negli anni 80 sono uscite delle ricerche epidemiologiche e la Lega Tumori su questo è sicuramente sempre in prima linea. Sicuramente l'alimentazione è l'argomento di Expo, un argomento sicuramente molto nobile, la fame del mondo, la sicurezza dei cibi. E la Lega Tumori sarà presente con un banco all'Expo e con un programma, che è quello di prevenire per nutrire il cambiamento. Per cui prevenzione, nutrizione e cambiamento. Il cambiamento riguarda soprattutto queste nuove popolazioni migranti, che sono i nostri nuovi cittadini. Ecco, in tema di prevenzione, un'iniziativa interessante è stata portata proprio nelle comunità straniere. Alan Garde, poi ne commentiamo insieme. Voi usate tanto olio di colza? Sì, in Cina, quando ero da piccola usiamo tanto. Adesso ho sentito che sono olio che non fanno benissimo, quindi... Sì, non uso mai ora, non uso più. Il riso integrale al posto di quello bianco. La carne bianca, o meglio ancora il pesce, al posto della carne rossa, anche nei piatti più tradizionali. Perché una sana alimentazione e un corretto stile di vita sono gli strumenti principali per prevenire i tumori. Con Expo alle porte, che ha proprio come tema l'alimentazione, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Milano ha organizzato una serie di incontri di cucina con le comunità cinesi, peruviane, filippine e arabe. Perché spesso, quando arrivano nel nostro paese, cambiano le loro abitudini. Iniziano a mangiare più carne rossa, più alimenti sottosale o molto salati. Soprattutto ricorrono a quello che è il junk food, il cibo spazzatura. Le merendine, gli snack, le patatine fritte, che sono facilmente reperibili al supermercato e che costano poco. Questi sicuramente sono due vantaggi che spingono le popolazioni migranti a scegliere questi prodotti, magari rispetto ad altri più salutari. Fondamentale leggere con attenzione le etichette dei prodotti che dicono che ingredienti ci sono e in che quantità. Bisogna prestare particolare attenzione agli zuccheri, agli additivi, agli allergeni, ai grassi aggiuntivi e agli oli come quello di colza e quello di palma, ricchissimo di grassi saturi, dannosi per il cuore e le arterie. I costi purtroppo di questo cibo spazzatura sono molto competitivi e questo è un elemento a favore del consumo proprio di questo cibo spazzatura. Professore, perché questo lavoro con le comunità straniere e perché un lavoro specifico con le donne? Questo lavoro di alfabetizzazione sanitaria sulle popolazioni migranti è uno dei nuovi obiettivi che ci proponiamo noi della sezione milanese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa acculturazione, questo portare queste società migranti, nuove società che sono quella filippina, cinese, peruviana e magrebina che sono presenti sul territorio milanese, portare questa cultura che noi abbiamo sempre portato ai nostri cittadini di Milano e provincia, anche a queste popolazioni migranti, io credo che sia un ruolo ben definito e un ruolo importante. Anche perché spesso si tratta di comunità, non tutte naturalmente, ma che sono chiuse e quindi riuscire a entrare, a far capire l'importanza di un cibo sano è decisamente importante e doppiamente una sfida importante. Grazie allora al Presidente della LILT di Milano per essere stato con noi. Noi continuiamo con le notizie, parliamo di un supermercato speciale, Elisabetta Santon.